Governo Bugiardo ci ha detto che non avrebbe tagliato le pensioni di reversibilità e invece con una circolare dell'Inps questo accadrà. Accadrà perché ci sono nuove modalità per il calcolo dei redditi per i pensionati superstiti i quali dovranno calcolarsi anche i proventi da TFR, i proventi da tutto ciò che è assoggettabile all'IRPEF, gli interessi dei BOT, dei CCT, dei conti correnti. Quindi più hanno reddito i pensionati e più viene tagliata loro la pensione di reversibilità. Questo nuovo metodo di calcolo fa sì che si parificano le prestazioni previdenziali e quelle esistenziali, cosa che Renzi aveva detto che non avrebbe fatto. Non l'ha fatta lui, l'ha fatta fare a Boeri, il presidente dell'Inps. Un'ennesima vergogna a danno dei pensionati italiani.